26 persone arrestate, tra cui esponenti di spicco della criminalità stabiese e spacciatori locali. È il bilancio di una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, tra l'area stabiese e la penisola sorrentina, dopo le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. È stata denominata Terra delle Sirene, l'operazione che ha portato i carabinieri ad eseguire 26 ordinanze cautelare, 14 in carcere, 3 domiciliari e 3 divietiti di dimora, e 6 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione e produzione di stupefacenti, estorsione, danneggiamento, furto e minacce. Nel corso dell'indagine sono stati effettuati decine di riscontri intercettati e sequestrati carichi di cocaina, hashish e marijuana, individuate e distrutte a migliaia di piante di cannabis coltivate nelle zone impervie del Monte Faito, identificati mandanti e autori di spedizioni punitive contro spacciatori concorrenti. Infine ricostruite centinaia di cessioni di droga, pagamenti in contatti a produttori e fornitori, aggressioni tra malavitosi per ottenere il controllo del territorio.